Ciao dolcezze, ciao dolcetti, ciao a tutti Allora, nuovo video unboxing, più o meno, Mac Bang Assaggio di due cipi, misura, vibra extra, 100% farina integrale 6 cornetti, frutti di bosco, parbabietola e uva C'erano anche zucca, carota e un'altra verdura, che non mi ricordo Assaggiamo uno di questi, con la confezione in carta, che erano in offerta all'Inns E assaggiamo anche questi, con la stessa confezione, viola, perché sono biscotti, sempre marca misura extra Parbabietola e frutti di bosco, questi li avevo già comprati e sono molto molto buoni Sono piccolini, entrambi i cibi hanno lattosio purtroppo Ma io ogni tanto qualcosa con latte la posso mangiare, non tutti i giorni E quindi, assaggiamo, facciamo questo video insieme, spero che vi piaccia Se magari comprerò, ho tutti e due i cibi con l'altro gusto O uno dei due i cibi con la zucca e carota E volete un video anche di quel cibo lì, assaggio, perché non l'ho mai assaggiato Fatemi sapere, se magari torno all'Inns e ci sono i cura-san di nuovo O con l'altro gusto, uva, carota, non uva L'anello di Olga, bellissimo, anche se gli anelli mi stanno stretti Alcuni e altri larghi, questo è stretto, meno male Allora, apriamo la confezione in carta Questi li avete mai provati voi, questi cibi? Fatemi sapere Se riconoscete l'altro gusto zucca e carota è Qual è l'altro gusto? Che non mi ricordo L'altra verdura qual è? Ce ne sono sei, giusto? Sei Sei i cornetti, sono un po' schiacciati Adesso vediamo, spero che siano abbastanza pieni Perché di solito tutti i cura-san che compravo anche anni fa Erano mezzi vuoti, morbidi, anche della Pauli Molino bianco, ma erano mezzi vuoti Questi li lasciamo lì Non li mangio tutti in un giorno Spero sia buono, non l'ho mai provato Invece i biscotti li avevo già comprati È un classico cornetto Forse più scuro degli altri perché è integrale Farina integrale Profumo, c'è un profumo che voi non potete capire È buonissimo È asciutto All'inizio è asciutto È morbido A toccarlo è morbido Ma subito è asciutto Vediamo a metà se c'è il ripieno Ma già all'inizio io lo vedo Vedete? È buio Ma un pochino di ripieno già all'inizio si vede Voglio provare a romperlo Tanto è morbido Il ripieno c'è Poco Poco ripieno ma c'è È molto dolce Mamma mia sa tantissimo Di uva E porpapietola ovviamente Tanto dolce mamma mia Sono quasi stucchevoli Per me Sono morbidi Buoni Ve li consiglio Provate Per me sono troppo dolci Anche magari da bucciare nel latte Nel caffè Nel tisane Nella cioccolata Non lo so Devo provare Per colazione Per merenda va bene Anche dopo cena Magari a scuola Per i bambini va bene L'intervallo Anche i biscotti Secondo me van bene Quelli là Anche dopo cena Nei biscotti va bene Ma il croissant dopo cena Non va tanto bene Facciamo merenda insieme Con questi cibi Non mi hanno pagato Per fare questo video È molto dolce Molto molto dolce Dolcissimo La scatola però è in carta Mi piace questa cosa Sembra plastica Questa Non resta è carta Forse anche questo è carta È buono È buono Mi piace Però è dolce Tanto dolce Forse zucca e carota È meno dolce Non lo so Frutti di bosco Uva E barba pietola Questi anche ve lo dico Sono dolcissimi Io li apro Giusto per voi Li conosco già Vorrei provare Anche l'altro gusto L'ho già detto La lavatrice Scusate Io la sento Spero che voi Non la sentiate Sono piccolissimi Piccolissimi È rosa Rosa quasi come la mia camicia Anzi i biscotti sono più rosa La mia camicia è più aranciona Sono piccoli Sono buonissimi Questi Uno tira l'altro Sono ripieni di barba pietola Ovviamente Forse questi sono più pieni Rispetto ai cura-san Ma io tutti i cura-san che compro Li trovo mezzi vuoti Questo è bellissimo È proprio viola Più che rosa Viola come la barba pietola Io mangio anche la barba pietola In insalata Crude Ovviamente Sbollentate Forse vabbè Come verdura Le compro In estate Sono molto buoni Molto dolci anche questi Ma sono molto buoni Sono veramente curiosa Anche se hanno il lattosio Se hanno il lattosio Di provare quelli zucca, carota E l'altra verdura Quindi con la confezione arancione Insomma La confezione questa è rosa In carta E l'altra invece è arancione La confezione 2,39 euro 2,99 euro Non mi ricordo Non in offerta Costano Meno di 3 euro Con 4 euro Sono buoni Non so se li vedete Mi piacciono di più Questi biscotti qua Che i cura sa Ma tutti e due sono buoni Come cibi Vi li consiglio ragazzi Provateli Adesso li chiudo Non so se la lavastoviglie Cioè Se la lavatrice Voi la sentite Magari è rilassante Per voi da sentire Non lo so Spero non vi dia fastidio Se la sentite A presto Video breve Ma intenso Provate di questi cibi Vi li consiglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti